Finisce la gara di playoff fra Genova e Segrate, Genova passa a Segrate e quindi si va a giocare l'ultima partita siamo con Mario Mercorio schiacciatore di Genova, allora Mario una bella gara la vostra diversa da quella giocata ieri sera oggi più concentrati e più attenti? Beh sì, in effetti per noi era un dentro o un cuore, quindi quando sono queste partite qua tocca dare tutto ce ne sono capitate poi di momenti difficili durante l'anno e siamo sempre stati bravi a superarli infatti anche oggi pomeriggio in albergo sentivo molta tranquillità da parte della squadra perché almeno potevamo anche perdere, poteva essere un stato diverso però almeno sapevamo che venivamo a farci un'altra partita rispetto a quella sia la prima in casa che quella di ieri Siete molto migliorati nel curare l'attacco avversario oggi? Ah sì, abbiamo contenuti bene, poi qualche errore in più loro e poi niente, abbiamo contenuti bene A Genova per l'ultima partita come la vedi? Non si può dire nemmeno che abbiamo il fattore campo perché abbiamo giocato due volte contro loro due volte ci hanno vinto quindi niente, alla fine stiamo dimostrando che siamo lì come livello proprio per le piccole attenzioni o chi magari ha maggior concentrazione in determinati frangenti può uscire nel vincitore Grazie Grazie Grazie